Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, come state? Spero bene. Ho fatto un sondaggio su YouTube e vi ho chiesto quale sarebbe stato il video, o quale sia l'argomento da dover trattare intorno ai miei video, che vi sarebbe interessato di più. E a quanto pare la maggior parte di voi ha risposto che vi sarebbe interessato poter vedere un approfondimento, o comunque sia un video, su quelli che sono, secondo me, i migliori play to earn da poter effettivamente giocare. Come sempre però, prima di poter iniziare il video ragazzi, vi ricordo di potervi iscrivervi al mio canale, mettere un bel like al video e di commentare con qualsiasi dubbio e domanda. Anche perché sarò felicissimo, come sempre, di potervi rispondere. Detto questo, direi di non perdere troppo tempo appunto nell'intro di questo video, anche perché fondamentalmente dovremo andare a vedere quelli che sono, secondo me, i 5 migliori giochi play to earn. Perché dico i 5 migliori giochi? Non perché siano fatti bene, ma perché effettivamente il termine play to earn sta appunto per poter effettivamente guadagnare. E questi, secondo me, sono i 5 migliori giochi in cui si può sia giocare, quindi divertirsi, svagarsi, e soprattutto poter guadagnare di più. Anche perché, tra altre cose, se vi ricordate, ho fatto una miniserie su tutti quanti quelli che sono i giochi, che secondo me, diciamo, sponsorizzano un play to earn un pochettino fasullo. Nel senso, sì, ok, ti dicono che effettivamente tu puoi guadagnare tramite il loro gioco, ma se non investi tanto, il ritorno, a parte che è piccolissimo, anche se investi tanto, il ritorno è praticamente pari a zero. Come sempre però, appunto, partiamo sul computer e poter approfondire meglio quello che è questo argomento. Allora, eccoci qui sul computer e come titolo appunto per la nostra lavagna virtuale ho scelto i migliori giochi play to earn del momento. Ovviamente questa, come ho già detto nell'intro, è una mia lista personale, perciò fatemi sapere nei commenti cosa voi ne potete pensare, tutto quali sono, secondo voi, i migliori giochi del momento per quanto riguarda il play to earn. Andando avanti con i nostri slide, il mercato so perfettamente che va malissimo, siamo sotto la soglia dei mille miliardi di dollari per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, per quanto riguarda il valore totale delle criptovalute. E allora perché vi sto parlando dei play to earn? Fondamentalmente perché i giochi play to earn, quelli seri, danno una grande possibilità ai giocatori di poter farmare cripto del gioco e ricevere così delle buone ricompense e inoltre sono anche una fonte di svago e di divertimento. Ovviamente sempre per gli appassionati ed è anche uno dei motivi per cui hanno subito preso piede tra i più appassionati, proprio perché uniscono il divertimento alla possibilità di poter guadagnare qualcosina. Niente di troppo eclatante ovviamente, anche se ci sono anche qui delle eccezioni in cui si può effettivamente guadagnare parecchio, ma rimaniamo sempre su una soglia medio-bassa, niente di troppo eccezionale, certo non si diventa milionari giocando a questi videogiochi. E sì, in alcuni casi, come appunto ho specificato poc'anzi, anche delle belle somme per nulla scontate. In questo mondo infatti dove molte piattaforme danno scarse ricompense e sono in cambio di ingenti investimenti, ci sono appunto delle piattaforme e dei giochi invece che riescono a darti delle buone ricompense per il tempo che tu gli dedichi fondamentalmente al videogioco. Anche perché ricordiamo che a prescindere da qualsiasi piattaforma, da qualsiasi gioco noi andremo a scegliere, e da andremo a fare, i play to earn si basano su delle missioni che noi dovremmo completare, quindi fondamentalmente ci rubano tempo. E, diciamo, il pagamento che noi riceviamo è più o meno commensurato innanzitutto all'investimento iniziale che noi abbiamo fatto, ma soprattutto è commensurato anche alla possibilità di poter guadagnare effettivamente tramite il nostro tempo. Ma veniamo a noi appunto e alla nostra lista. Il primo gioco che ho deciso di mettere all'interno di questa lista, ovviamente aspettate, ci tengo a fare una precisazione, non è una lista fatta per il primo e il migliore e il quinto e il peggiore, assolutamente no, è semplicemente sono i miei cinque giochi, non li ho messi in ordine in realtà. Comunque, il primo gioco è Star Atlas. Che cos'è Star Atlas? È un videogioco di strategia multiplayer sviluppato su una blockchain che si chiama appunto Solana, la conosciamo bene tutti quanti, è una delle migliori blockchain, o comunque sia una delle più grandi blockchain emergenti. In Star Atlas vestiamo i panni di quelli che sono appunto un esploratore spaziale del lontano 2620. Tutta la struttura del videogioco su blockchain si basa sugli NFT e li conosciamo tutti quanti che sono i No Fungible Token, sono molto famosi e hanno un sacco spopolato ultimamente, soprattutto negli ultimi due anni. E cosa possiamo trovare come NFT all'interno di questo gioco? Fondamentalmente più o meno tutto, tra l'altro possiamo trovare appunto anche astronavi, che sono asset appunto non fuggibili che possiamo scambiare e vendere. Questo è un gioco dove l'investimento iniziale è abbastanza alto, ma la possibilità di ritorno grazie agli NFT unici, soprattutto a quelli più rari, è veramente alta. Ovviamente ci sono diversi livelli per quanto riguarda le varie astronave, ad esempio prendo le astronave perché sono quelle che hanno sì un investimento un pochettino più grande, quindi hanno un costo più iniziale più alto, ma allo stesso tempo hanno anche un ritorno più alto, perché ovviamente più l'astronave è unica, più l'astronave ovviamente è integra, più l'astronave è anche forte nei combattimenti, più le sue statistiche sono alte, e più l'NFT vale di base. Il secondo gioco invece si chiama Embersword. Questo gioco non è ancora uscito, ma già dall'alpha, anzi dalla pre-alpha, promette veramente molto bene, e per questo l'ho voluto inserire all'interno di questa lista. È un videogioco free to play, è una cosa molto importante da dover sottolineare questa qui, perché non è un gioco che si paga, quindi fondamentalmente non dobbiamo pagare per poter giocare a questo gioco. È in uscita, tra l'altro, nel 2023, quindi il prossimo anno. Ispirato ai grandi classici delle MMORPG, come appunto World of Warcraft, Embersword è uno dei videogiochi su blockchain più attesi dalla community del crypto gaming. Attualmente è in fase pre-alpha, appunto come abbiamo già detto, mentre la fase di alfa è prevista per fine anno. Qui ragazzi, veramente ogni cosa è un NFT. Ovviamente prima si inizia e meglio è, perché ovviamente avrai più tempo e più possibilità di poter trovare quelli che sono gli oggetti rari all'interno di questo mondo. Cosa significa che qualsiasi cosa è un NFT all'interno di questo mondo? La spada, lo scudo, il vestiario, quindi l'armamento, l'armatura, tutto quanto quello che tu possa effettivamente buildare sopra il tuo personaggio, il tuo personaggio stesso, saranno degli NFT. Più saranno sviluppati quelle che sono appunto le armature, le spade che tu hai, più ovviamente quell'NFT avrà valore. Ovviamente però, ripeto, non riusciremo a fare un focus preciso, perché sarebbe davvero tantissimo di poter parlare, soprattutto di questo gioco qui, perché mi fomenta un sacco, però, allo stesso modo, è veramente difficile potervene parlare in un solo video, quindi colgo l'occasione per potervi dire che se vi dovessero interessare un approfondimento su uno di questi giochi di questa lista, mi raccomando, fatemelo sapere sotto nei commenti. Cercherò di portare un video approfondimento, fatto bene, approfondito al 100%, su quello che è uno di questi giochi di questa lista che vi interessano. Il numero 3, invece, si chiama Otherside, di Yuga Labs. Chi è che non conosce fondamentalmente Yuga Labs? Oggi come oggi, infatti, sono diventati famosissimi grazie a quelli che sono gli NFT delle Bored Ape, in seguito, grazie alla uscita che ci sarà appunto quest'anno, se non mi ricordo male, del token ApeCoin. Bene, loro stanno anche lanciando quello che è appunto un videogioco, Play to Earn, ovviamente basato su quello che è il loro intero ecosistema, come hanno fatto appunto anche per le ApeCoin. Il tutto ruoterà, ovviamente, intorno a quelli che sono gli NFT. Non ci sono molti dettagli ancora per quanto riguarda questo progetto, che uscirà nei prossimi anni, ma visto il grande successo che ha riscosso nella comunità di cripto, direi che questo gioco è uno di quelli da tenere presente e non appena uscirà. Gli NFT, ovviamente, come ho già detto, giocheranno un ruolo fondamentale in questo gioco. Basti pensare, ad esempio, al drop che c'è stato delle ApeCoin per chi possedeva già gli NFT delle Bored Ape. Quindi anche qui ci sono ovviamente degli NFT di Yuga Labs che costano un pochettino di meno rispetto alle Bored Ape, anche perché hanno un price floor abbastanza alto, ma è un gioco sicuramente che si baserà tantissimo, come abbiamo appunto già visto all'interno del suo video, si baserà tantissimo su quelle che sono appunto gli NFT delle Bored Ape o comunque sia gli NFT di Yuga Labs in generale. Il quarto gioco che vengo appunto a proporvi oggi nella mia lista si chiama Illuvium. Illuvium è un gioco sci-fi. Cosa significa sci-fi? Sci-fi è un'abbreviazione per Science Fiction, dove appunto diventiamo noi stessi un ranger. In questo gioco si dovrà sia esplorare le steppariene, quindi fondamentalmente dovremo esplorare questo mondo open world, ma allo stesso modo dovremo combattere contro quelli che sono i mostri che abitano in questo mondo, detti appunto gli Illuvials. Questi Illuvials sono degli NFT che rappresentano le creature del pianeta e sono il fulcro del crypto gaming di Illuvium. Infatti Illuvium è un gioco, appunto, blockchain, RPG, open world costruito su che cosa? Su Ethereum, quindi sulla blockchain di Ethereum. I giocatori si muovono all'interno di questo mondo fantasy sconfiggendo e catturando quelle creature note come Illuvial, o Illuvials ovviamente detta al plurale. Dopo aver raggiunto tali creature, dopo appunto averle catturate all'interno della loro collezione, le potranno poi riutilizzare in quelle che sono le battaglie contro altri giocatori, mentre appunto raggiungiamo quelli che sono gli obiettivi e compitiamo le missioni e giochiamo seguendo la storia appunto di Illuvium, perché ovviamente sì, è un open world, possiamo visitare, esplorare tutto quanto ci pare, ma c'è tutta una storia dietro da dover seguire per poi arrivare appunto verso la fine. Illuvium ha anche dei token propri che sono appunto ILV e SILV e questi token insieme appunto agli NFT rappresentano appunto le creature, upgrade e oggetti di gioco. Il gioco ha funzionalità del tipo play to earn e premia i giocatori con ILV token per aver completato quelle che sono appunto sfide, missioni e battaglie. Fondamentalmente per poter ricevere ricompense e anche buone tra l'altro SILV, bisogna appunto continuare quella che è la storia, continuare a fare quelle che sono le missioni e poter appunto fare queste battaglie contro gli altri giocatori. Il quinto e ultimo appunto play to earn che mi sento di dover mettere all'interno di questa lista è appunto sono i Cryptomon. Come sapete ne ho già parlato anche di questo sul mio canale, abbastanza approfonditamente. Questo gioco è un sogno per tutti quanti quelli che da bambini come me sognavano di poter andare in giro per il mondo a canturare i Pokémon. Un mix diciamo tra Pokémon e Tamagotchi. Anche qui tutto ruota intorno agli NFT che sono appunto questi Pokémon qua, che diciamo li chiamiamo Cryptomon in questo caso qui, che sono questi Cryptomon che hanno ovviamente un costo iniziale ma poi man mano che noi li manteniamo, man mano che noi li facciamo evolvere, man mano che noi li facciamo potenziare eccetera eccetera, acquisiscono sempre più valore. Ovviamente non ruota tutto quanto soltanto intorno agli NFT, ma ruota anche appunto intorno al completamento delle missioni per potersi aggiudicare quelle che sono delle vere e proprie ricompense droppate tramite il token nativo della piattaforma. Infatti riusciamo a ricevere appunto delle ricompense settimanali, tra l'altro ci sono due tipi di ricompense, una ricompensa di tipo medio e una ricompensa di tipo alto, a seconda delle missioni che riusciamo a completare. Tra l'altro è una parte del gioco, perché il gioco è in fase di sviluppo anche se siamo appunto già ormai da più di un anno lanciati sul progetto, le ricompense tra l'altro ci tengo a sottolineare che non sono assolutamente poche, ma variano di settimana in settimana, a seconda delle missioni che dovremo appunto completare. Il gioco è già disponibile ma sta continuando a svilupparsi, tra le altre cose voglio segnalarvi quello che è stato un recente finanziamento che hanno ricevuto di diversi milioni per poter implementare, tanto quella che è la parte grafica, la parte appunto diciamo anche funzionale del gioco, ma soprattutto per poter implementare quelli che sono appunto i loro punti, la loro roadmap che si sono prestabiliti. Di recente è uscita la possibilità di poter scaricare questo gioco anche su smartphone, tra altre cose segnalo soltanto la parte Android perché iOS stanno avendo dei problemi, perché sì, fino ad oggi era possibile poter giocare a questo gioco soltanto tramite desktop, adesso invece per gli utenti Android è possibile poter scaricare la parte appunto dell'applicazione per Android. Per iOS arriveranno appunto nei prossimi mesi, aggiornamenti in merito. Bene ragazzi, per quanto riguarda il video di oggi è veramente tutto. Sono dei giochi veramente interessanti, bisognerebbe poter fare un video su uno di questi qua e poterne parlare veramente bene e poter spiegare tutte quante quelle che sono le potenzialità che ognuno di essi ha di poter appunto far guadagnare la persona che ha investito all'interno. Tra altre cose ci tengo appunto a segnalarvi che tranne per quanto riguarda il primo gioco che vi ho detto che era free to play, che sarebbe Ember's World, tutti quanti gli altri hanno bisogno per poter appunto partecipare e poter iniziare ad avere queste ricompense di un minimo di investimento. Ad esempio, per esempio, pensiamo ai Cryptomon, bisogna prima poter acquistare quello che è un nuovo di Cryptomon, che poi andrà fatto schiudere e quant'altro, prima di poter partecipare, prima di avere la possibilità di poter appunto ricevere ricompense. Tra altre cose, ognuno di questi giochi ha diverse possibilità, diversi modi di guadagno e le ricompense di tutti quanti questi giochi, come appunto vi ho già detto, sono molto interessanti. Per esempio, io prendo un esempio Cryptomon, perché è quello che sto seguendo di più in questo momento, comunque hanno appunto questo sistema di drop per quanto riguarda appunto le ricompense settimanali che è molto molto interessante e soprattutto molto molto buono. Tra altre cose verrà implementato in un secondo momento anche la possibilità di poter ricevere ricompense tramite i combattimenti PvP e PvE. Comunque saranno aggiornamenti che vi porterò qui sul canale se ovviamente vi dovesse interessare. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine, vi ricordo di potervi iscrivervi al canale, mettere un bel like e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. See you later, ciao ciao!